dunque le onde elettromagnetiche faccio finta che non ne sappiate quasi nulla magari le avete viste qualche disegno roba del genere però partiamo proprio dalle origini l'origine delle onde elettromagnetiche è dalle fantomatiche equazioni di maxwell quindi per sapere bene che cosa sono le onde dobbiamo ripartire dalle equazioni di maxwell le ho già trattate in un'altra live quindi potete andare a vedere quella lezione se per caso vi serve un ripasso vi ricordo che le equazioni di maxwell si possono scrivere in 2000 modi diversi perché c'è la versione con gli integrali quella con le derivate quella col flusso noi adesso usiamo la versione con gli integrali che quella un po più generale e che secondo me è quella che rende anche un pochino meglio l'idea con le derivate sarebbe forse un po più semplice però so che non tutti la trattano in quella ve le trattano in quella versione allora maxwell il signor maxwell che vi ricordo era un furbone lui ha soltanto messo assieme le equazioni di altra gente le ha chiamate equazioni di maxwell ha fatto una piccola correzione vabbè ha avuto però il merito di analizzare queste equazioni cioè di dire ok queste sono le equazioni del magnetismo dell'elettromagnetismo che cosa mi dicono se le metto tutto insieme maxwell che cosa ha fatto ha scritto le sue quattro equazioni ma ha notato questa cosa qua che se le scrivi nel vuoto adesso poi vi spiego cosa vuol dire nel vuoto succede una cosa un po strana scriviamole allora la prima equazione di maxwell è l'equazione di gauss per il campo elettrico poi c'è l'equazione di gauss per il campo magnetico o teorema di gauss come preferite poi c'è la meravigliosissima legge di faraday neumann lenz quella che fa impazzire tutti con gli esercizi quella per intenderci di solito la vedete scritta con la fem questa qua adesso io ve la scrivo invece scritta bene soltanto con i campi e poi c'è la legge di ampere maxwell che è quella che vi descrive l'origine del campo magnetico questa qua allora perché ho dovuto specificare che queste qui sono le equazioni di maxwell nel vuoto perché se vedete in queste equazioni non compaiono mai la corrente o la carica elettrica quindi non ci sono q e i dove sarebbero dove dovrebbero stare la corrente la carica elettrica in queste equazioni qui qui ci dovrebbe essere q in teoria invece c'è 0 e qui prima del mi 0 e y 0 dovrebbe esserci la corrente invece non ci sono quindi quando si dice nel vuoto si intende dire senza q e senza i cioè voi state facendo finta di scrivere queste equazioni in un luogo dello spazio dove non ci sono cariche elettriche occorrenti che non è una roba così assurda cioè se ci pensate adesso voi state guardando penso uno schermo per seguire questa lezione che cosa succede nello spazio tra voi e lo schermo si forse qualche carichina elettrica c'è ma praticamente non ce ne sono comunque sono molto molto trascurabili probabilmente si annullano la vicenda cioè max dice prendiamo una zona dello spazio in cui non ci sono cariche elettriche magnetiche scrivo le mie equazioni per quel punto lì che cosa scopre facendo questo giochettino qua scopre che uno si aspetta anche lui si aspettava di dire vabbè se le scrivi nel vuoto mi viene tutto zero cioè non c'è il campo elettrico non c'è il campo magnetico invece le equazioni vi dicono anche nel vuoto campo elettrico e campo magnetico possono esistere e non solo possono esistere cioè ci vivono tranquillamente nel vuoto ma possono spostarsi nel vuoto cosa vuol dire che il campo elettrico il campo magnetico si muovono nel vuoto vuol dire che voi che il campo elettrico e il campo magnetico avranno un certo valore in alcuni punti e quel valore si sposta nello spazio e qua gli scatta l'idea come fanno a muoversi si muovono il campo elettrico e il campo magnetico come un'onda allora queste due parole innocenti sono tre tecnicamente la prima ok azzurra sì certo dunque la prima equazione dovrebbe essere q fratto epsilon 0 però se noi siamo nel vuoto stiamo facendo finta che non ci siano cariche elettriche o correnti cioè stiamo facendo finta che tutte le cariche elettriche che stiamo considerando siano 0 e tutte le correnti siano 0 quindi questa qua in realtà diventa sarebbe 0 fratto epsilon 0 la prima equazione e quindi la scrivo direttamente come 0 quindi maxwell praticamente fa finta di dire sto considerando una zona dove la carica elettrica non c'è e non c'è anche corrente anche qua non sono situazioni poi così assurde pensate a tutti gli esercizi che avete fatto di campo elettrico di campo magnetico tipo che ne so il classico filo percorso da corrente e poi ci fate sopra gli esercizi con il campo magnetico se voi prendete una regione dello spazio vicino al al filo che ne so vi mettete qua ok questa fate finta la zona che ho cercato in giallo è la regione dove scrivete l'equazione di maxwell non ci sono correnti maxwell dice anche in quella zona può esserci un campo elettrico un campo magnetico oppure se non ci sono correnti e anzi si possono muovere adesso poi appunto vediamo meglio come allora tornando al discorso onda il fatto che si dica come un'onda non è una cosa tanto semplice perché uno come sempre pensa alle onde pensa le ondine del mare fatte così e fine in fisica e matematica quando si dice che una roba si muove come un'onda si sta facendo riferimento a un un'entità una come dire un oggetto che ha una struttura delle proprietà ben precise si sta parlando di una funzione matematica che ha la forma di un'onda quindi dire che il campo elettrico e il campo magnetico sono un'onda significa che sono descritti da una funzione a forma d'onda adesso anche questa la spiego meglio tranquilli in matematichese le onde sono tra le varie cose seno e coseno quindi quando vi dicono che in matematica avete a che fare con una funzione a forma d'onda o con una funzione d'onda di solito si intende nei casi più semplici che avete a che fare con una roba del tipo y uguale a a seno di kx meno omega t questa roba in matematica è una funzione d'onda è un'onda ok poi ci sono altri tipi di onde sempre matematica in fisica però questa è la versione base se avete dei dubbi su cosa siano la a la k la omega vi rimando al mio video sulle onde ho fatto una live e c'è anche un video tappabuchi che vi spiega bene che cosa sono a è ampiezza k è il numero d'onda omega è la pulsazione potete andare a vederla da sopra però voglio che sia chiaro questo quando maxwell dice campo elettrico e magnetico sono un'onda vuol dire che sono descritti da una funzione di questo tipo cioè cosa vuol dire sempre a livello matematico vuol dire che voi potete prendere il campo elettrico e il campo magnetico e scriverli in questo modo così campo elettrico lo vedete come è uguale a un'ampiezza chiamiamola e 0 per il seno di kx meno omega t idem fate poi con il campo magnetico e il campo magnetico sarà una roba del tipo b uguale a b 0 seno di kx meno omega t cioè se voi scrivete così il campo elettrico il campo magnetico e poi li sostituite in questo modo con queste scritture all'interno di e e b nell'equazione di maxwell quindi al posto di questo e di questo e di questo e ci mettete la funzione con il seno al posto di questo b di questo b di questo b ci mettete la funzione con il seno vi salta fuori che le equazioni di maxwell funzionano ancora questo è il significato di si muovono come un'onda cioè se li scrivete come delle onde le equazioni funzionano ancora ok quindi maxwell occhio è stato due volte furbo lui non c'ha avuto una grandissima intuizione a livello fisico meglio sicuramente ce l'ha avuta però la chiave della sua scoperta delle onde elettromagnetiche sta nel fatto che ha scoperto matematicamente che il campo elettrico e il campo magnetico possono essere scritti come un'onda adesso qua c'è il passaggio grosso e poi praticamente questa parte introduttiva sull'equazione di maxwell è fatta il passaggio grosso è questo qua quando in fisica un'equazione vale con una soluzione adesso anche qua vi spiego meglio cosa vuol dire scritta come un'onda significa che quella quantità effettivamente si muove come un'onda allora so che sembra la scoperta dell'acqua calda però non è una cosa così banale quello che sto dicendo è questa roba qua se in fisica trovate un'equazione e tra le sue possibili soluzioni cioè tra i possibili modi in cui potete scrivere le quantità che fanno funzionare l'equazione ce n'è una che ha la forma di un seno di un coseno questo vi sto dicendo significa che fisicamente cioè nella realtà concreta che ci circonda quella roba si muove come un'onda quindi quella che voi chiamate onda è matematica il seno il coseno corrisponde nella realtà a un'onda vera e propria questo è quello che maxwell ha scoperto e quindi da qua saltano fuori le equazioni di maxwell adesso cerchiamo invece di vedere l'altro lato della medaglia cioè questo è dal versante matematico come maxwell è arrivato a capire che esistono le onde elettromagnetiche ci si può arrivare da tutt'altra strada adesso vi faccio vedere come senza usare equazioni e robe strane basta soltanto avere una vaga idea di come funzionano le cariche elettriche e siamo praticamente a posto allora l'altro modo di vedere le onde elettromagnetiche è questo prendiamo una carica positiva semplice semplice è un puntino carica positiva la prima roba che studiate quando fate il campo elettrico sappiamo che questa roba ha un campo elettrico fatto così anche qua no una delle primissime robe su cui fanno una testa così le cariche positive hanno il campo radiale che va in fuori ecco questa roba qua e non hanno campo magnetico quindi questo è un campo elettrico adesso giusto per semplificarci un pochino la vita teniamo solo una di queste linee di campo non cambia nulla se le tengo tutte è soltanto che mi viene più facile il disegno quindi tolgo momentaneamente queste guardiamo solo quella linea di campo lì che va verso destra ripeto non cambia niente se tengo anche le altre è solo per fare un esempio più semplice questa linea di campo è dritta e va avanti fino a che vi pare potete prolungare all'infinito adesso voglio che vi immaginiate questa linea di campo come se fosse una corda una normalissima corda tesa attaccata alla carica adesso cominciamo a far muovere la carica cioè la facciamo andare in giù che cosa succede? quando la carica scende si tira dietro la corda e di conseguenza la corda si piega leggermente così ha senso no? anche qua perché fisicamente questa roba succede? la carica si è spostata verso il basso quindi il campo elettrico che sta generando si piega perché il campo elettrico che c'è vicino alla carica questo qui segue sempre la stessa regola di prima cioè punta verso il fuori della carica ed avrebbe direzione radiale il campo elettrico che c'è in altri punti che ne so tipo qua è il campo elettrico che era stato ancora generato un pezzo prima cioè quando la carica era ancora nella parte in alto quindi è normale che sia dritto non si è spostato tutto quando la carica era in cima qui il campo elettrico che ha generato nel puntino viola era giusto che fosse lì e non ha ancora tra virgolette fatto in tempo a modificarsi ok? la carica è scesa nel frattempo la vostra corda si è leggermente piegata ora che cosa succede? la carichina torna su la stiamo facendo oscillare praticamente che cosa succede? la carica si rialza torna verso l'alto si porta dietro sempre la corda e qua succede la magia perché? perché si porta dietro la corda e guardate qua che cosa succede ha creato un impulso un'onda che è partita che è partita dalla carica stessa e che adesso si sposterà pian piano verso destra quindi il fatto che la carichina abbia fatto su e giù ha creato un impulso se vogliamo una deformazione del campo elettrico e questa deformazione che è questa roba qua adesso si sposta verso destra poi se voi continuate a far andare su e giù la carichina quindi continuate a farla andare in alto in basso in alto in basso che cosa succede? che di fatto voi vedete una roba fatta così cioè il campo elettrico si mette a oscillare e qua magia salta fuori l'onda elettromagnetica cioè si vede che il campo elettrico si sposta nello spazio lo vedete proprio muoversi come se fosse un'onda però non ho dovuto ragionare su equazioni di maxwell e le robe assurde qua semplicemente ho detto vabbè se la carica si muove il campo elettrico segue il movimento della carica e quindi anche lui forma un'onda ma questa è l'origine delle onde elettromagnetiche cioè da qualche parte c'è una carica questa carica oscilla poi in tutto lo spazio vicino alla carica quindi qua per intenderci il campo elettrico continua a oscillare a muoversi per i fatti suoi senza che ci sia bisogno della carica elettrica che effettivamente si mette lì cioè si sposta verso destra per creare quell'oscillazione la carica elettrica oscilla nel punto lì a sinistra e anche nello spazio a destra voi vedete l'ondina questo è per il campo elettrico il bello è si può vedere che questa roba genera anche un campo magnetico che oscilla adesso ve lo spiego però dobbiamo fare un pochino più attenzione perché è meno intuitivo ma comunque non è complicato allora partiamo ripartiamo dall'inizio cioè con la carichina che va verso il basso cancello un attimo il campo elettrico se la carica elettrica si muove verso il basso che cosa succede? essendo una carica elettrica che si muove di fatto sta formando una corrente quindi la singola carica che va in giù è una corrente verso il basso lo so che uno dice eh ma le correnti sono nei fili le correnti sono fatte da tante cariche che si muovono no tecnicamente in fisica anche una singola carica che si sposta è una corrente ora voi sapete benissimo meglio di me che se avete una corrente che si muove cioè una carica elettrica che si muove che forma una corrente in automatico avete un campo magnetico sicuro come è fatto il campo magnetico di questa carica? verso qua dovete usare la regola della mano destra e scoprite che il campo magnetico gira intorno alla carica e in particolare fa un giro così le gira attorno in questo modo se lo vogliamo disegnare per bene visto dall'alto sarebbe una roba di questo tipo il campo magnetico esce vicino alla carica a destra della carica e rientra nel vostro schermo a sinistra della carica in questo modo qua ripetelo su qua regola della mano destra se avete dei dubbi sopra la carichina quindi tra voi e la carica il campo magnetico va verso sinistra sotto la carica quindi dietro la carica rispetto a voi il campo magnetico invece va verso destra così gira il campo magnetico anche qua a noi interessa soltanto un pezzetto di questo campo magnetico prendo solo quello a destra esattamente come prima ho preso il campo magnetico solo il campo elettrico solo a destra quindi il campo magnetico va in su la carichina scende e poi a un certo punto arriva qua si ferma e gira cioè ritorna in su che cosa succede? il campo magnetico c'è ancora perché la carichina che si muove verso l'alto è sempre una corrente ma a differenza di prima è una corrente che va verso l'alto quindi che cosa succede? anche lei ha un campo magnetico ma è girato al contrario rispetto a quello di prima cioè fa questo qua di prima aspettate che lo sposto cioè fa un giro di questo tipo gira così il campo magnetico adesso quindi a destra della carichina se vogliamo disegnare la solo se vogliamo disegnare il campo solo a destra della carica il campo entra poi cosa succede? la carichina sale e poi scende di nuovo quindi questi due campi nel frattempo si sono un po' spostati quando la carichina torna su e ritorna verso il basso si rigenera un campo uscente la carica scende questi campi si spostano e qua avete di nuovo il campo entrante quindi continuate ad avere alternatamente campo entrante e campo uscente dallo schermo ripeto perché perché la carichina fa su e giù la cosa un po' più strana del campo magnetico è che è perpendicolare al moto della carica cioè la carica oscilla per voi sul piano dello schermo il campo magnetico invece fa dentro e fuori dallo schermo però l'idea è che continua a switchare il verso in cui si muove quindi morale della favola vi faccio il disegno in 3d così si vede benissimo una volta per tutte poi vi faccio anche vedere un'animazione perché credo sia la cosa migliore disegno in 3d quindi avete la carichina che fa su e giù quello che voi vedete all'altro pratico è questa roba qua un campo elettrico che oscilla in questo modo e contemporaneamente un campo magnetico che oscilla in questo modo qua vedete il campo magnetico fa dentro fuori dentro fuori mentre il campo elettrico fa su e giù seguendo la carichina questa roba è proprio quella che chiamate onda elettromagnetica ora questa non è una descrizione accuratissima del di come avviene il fenomeno nel senso che quelle che io ho disegnato qua sono in teoria linee di campo per essere proprio pignoli avrei dovuto disegnarvi i singoli vettori del campo però ragazzi è per dare un'idea intuitiva di come avviene nel fenomeno cioè se voi fate oscillare una singola carica elettrica producete un campo elettrico e un campo magnetico che hanno questa forma questa roba qua tutta sta roba gigante la chiamate onda elettromagnetica perché? perché ha la forma di un'onda ed è fatta da campo elettrico e campo magnetico fine questa è la spiegazione non matematica dell'origine delle onde elettromagnetiche adesso ve lo faccio vedere bene ve lo faccio vedere bene vediamo se si riesce eccola qua questa l'ho presa da wikisource quindi grazie a wikipedia che ci fornisce il materiale l'idea è questa praticamente voi vedete il campo elettrico e il campo magnetico che oscillano vedete il campo elettrico fa su e giù il campo magnetico fa avanti e indietro vi dovete immaginare che lì a sinistra ci sia la famosa carichina mia che ho disegnato che sta oscillando questa roba è un'onda elettromagnetica quindi campo elettrico e campo magnetico a forma di onda che si spostano nello spazio ve lo lascio ammirare un secondo ok adesso un paio di cose che secondo me è importantissimo sottolineare perché la gente sbaglia a interpretare questo tipo di disegno ragazzi non è che perché il campo elettrico è disegnato in verticale e il campo magnetico in orizzontale vuol dire che l'onda ha una certa dimensione in verticale e una certa dimensione in orizzontale cioè l'onda non è alta un tot o larga un tot a seconda di quanto sono grossi il campo elettrico del campo magnetico attenzione questo disegno qua questa animazione vi sta soltanto dicendo che quando ci sono i picchi del campo elettrico il campo elettrico in quei punti è al massimo valore dell'onda idem quando ci sono i picchi del campo magnetico il campo magnetico ha valori massimi però non è che il campo elettrico e il campo magnetico hanno il loro massimo valore in un punto lontano cioè un punto in alto in un punto in basso in un punto a destra in un punto a sinistra adesso ve lo disegno così ci capiamo meglio quindi disegniamo un attimo la nostra meravigliosa onda ecco qua ok nell'animazione vi faceva vedere che c'era questa linea su cui si stava muovendo l'onda no? cioè l'onda si muove seguendo questa linea qua che ho disegnato in bianco però occhio se vi fanno vedere il picco del campo elettrico che ne so qua qua c'è il picco del campo elettrico non è che sto picco del campo elettrico è boh non lo so 5 cm sopra la linea su cui si muove l'onda non è così che bisogna intendere il disegno cioè questa distanza verticale non è una cosa spaziale non vi dice che l'onda ha una certa altezza occhio cioè questo grafico vi rappresenta l'intensità del campo tradotto nella realtà fisica se voi dovreste analizzare questa onda che si muove voi vedreste una cosa fatta così vedreste anche qua non è corretto dire vedere però osservereste una roba di questo tipo questa è l'aliena di propagazione ci sono dei punti su questa linea in cui il campo elettrico è molto più intenso e sono tutti equidistanti tra loro e poi ci sono dei punti vicini dove il campo elettrico si riduce leggermente tipo così e poi ci sono dei punti dove il campo elettrico si riduce e si riduce fino a diventare praticamente zero questa secondo me anche se è meno visivamente appealing meno visivamente come dire carina da vedere è una descrizione un pochino più accurata di come funziona un'onda i puntoni grossi sono dove il campo magnetico è più intenso i puntoni piccoli dove il campo magnetico è meno intenso il fatto che ci siano le frecce alto e basso è soltanto per dirvi che nei puntoni grossi il campo magnetico punta alternativamente suo giù così quindi una roba di questo tipo qua si gira eccetera eccetera però non confondetevi con il fatto che è disegnata in 3d e quindi andate a pensare che è una cosa che occupa un certo spazio un certo volume assolutamente no tecnicamente un'onda elettromagnetica può anche essere una roba puntiforme cioè una linea puntiforme no una roba rettilinea cioè è una linea su cui ci sono dei punti a campo elettrico e campo magnetico più intenso idem posso disegnare sempre su questa linea il campo magnetico che sarà lo sovrappongo perché sono effettivamente sovrapposti quindi il pasticcio è assolutamente volontario questo è il campo magnetico anche qua il campo magnetico nei punti più grossi nei punti viola più grandi è inteso come più forte nei punti viola più piccoli è inteso come meno forte e lui invece che fare su e giù fa avanti indietro o destra sinistra come preferite intenderlo è la stessa cosa questa è l'idea quindi primo mito da sfatare le onde elettromagnetiche non occupano necessariamente un certo spazio il disegno in 3d è solo per darvi un'idea del fatto che ci sono campo elettrico e campo magnetico più intensi in certi punti quindi se dovessi sovrapporre a questa roba il disegno che ho fatto prima sarebbe fatto così ok poi appunto noi lo disegniamo in questo modo perché sembra un pochino più semplice però secondo me a volte frega un po' queste sono le due cose equivalenti adesso vi faccio notare invece una cosa molto importante e anche qua dobbiamo sfatare un mito grosso vedete che campo elettrico e campo magnetico anzi ve lo faccio rivedere dall'animazione vedete che campo elettrico e campo magnetico sono sincronizzati cosa vuol dire quando c'è il picco del campo elettrico c'è anche il picco del campo magnetico no cioè quando avete lo spuntone in alto del campo elettrico appena lì davanti a lui c'è anche lo spuntone del campo magnetico e viceversa questa cosa è un po' strana se ci pensate perché quando fate le equazioni di Maxwell vi continuano a ripetere questo mantra cioè è il campo elettrico e il campo magnetico si generano a vicenda e questo è il motivo per cui si riescono a creare un'onda elettromagnetica cioè l'onda si propaga perché avete il campo elettrico che oscilla questa oscillazione crea un campo magnetico il campo magnetico che oscilla a sua volta crea un campo elettrico e così via questa descrizione però secondo me non è correttissima a livello matematico non lo è per niente però anche a livello fisico secondo me non è proprio accurata vi spiego il perché se effettivamente fosse vero che il campo elettrico genera il campo magnetico e il campo magnetico genera il campo elettrico ci aspetteremmo un minimo di delay un minimo di ritardo tra il campo elettrico e il campo magnetico questo è il campo elettrico se è vero se è vero che il campo elettrico genera quello magnetico io mi aspetto per esempio che dopo il picco del campo elettrico arrivi il picco del campo magnetico no lui al massimo allora genera tanto campo magnetico e di conseguenza io mi aspetterei una roba magari fatta così questa non è un'onda elettromagnetica corretta sia chiaro è per farvi capire l'idea però se effettivamente fossero uno generato dall'altro mi aspetterei una cosa di questo tipo invece non succede assolutamente cioè sono perfettamente sincronizzati quando avete il massimo di uno c'è anche il massimo dell'altro cioè voi di fatto vedete una roba fatta così allora perché succede questa cosa qua perché non è proprio vero che il campo elettrico e il campo magnetico si generano a vicenda perché come abbiamo già detto nelle scorse lezioni distinguere tra campo elettrico e campo magnetico non è una cosa proprio corretta a livello fisico cioè sono due entità che si comportano in modo diverso ognuna ha le sue proprietà però questi due signori vivono sempre insieme ma banalmente perché sono generati dalla stessa roba una carica elettrica cioè ricordate prima ho detto questo oggetto questa onda in qualche modo deve essere generato da una carichina che oscilla vicino di da qualche parte il fatto che siano sincronizzati nasce dal fatto che quando c'è il picco del campo elettrico dovuto all'oscillazione della carica c'è anche il picco di campo magnetico dovuto alla corrente generata dalla carica cioè questi due nascono sincronizzati questa è la cosa importante quindi campo elettrico e campo B sono generati sincronizzati quindi in sincrono e non c'è più modo poi di desincronizzarli cioè nascono insieme nascono già sincronizzati quindi si muovono sincronizzati non c'è dietro questa grande cosa mistica per cui ah oddio c'è il campo elettrico per magia riesce a generare quello magnetico che a sua volta rigenera il campo elettrico no è soltanto che partono già sincronizzati quindi vanno avanti sincronizzati anche qui una descrizione molto approssimativa della realtà fisica che c'è dietro però ragazzi questa è l'idea volendo più avanti quando faremo relatività potrei anche farvi vedere c'è una bellissima dimostrazione che vi fa vedere che il campo magnetico non è altro che il campo elettrico scritto tramite la teoria della relatività quella è proprio una roba epocale dimostrazione di fisica stupendissima cioè una di quelle che vi fa che vi lascia lì con proprio il magone perché tutto quello che ho studiato è una menzogna il campo magnetico in realtà è un normalissimo campo elettrico scritto tramite la teoria della relatività di Einstein meraviglioso però per adesso lasciamo stare questa è l'idea ok abbiamo finito adesso di sfatare i miti un paio di altre informazioni tecniche adesso finalmente passiamo alle cose un pochino più terra terra allora come tutte le onde le onde elettromagnetiche hanno una frequenza hanno una lunghezza d'onda e una velocità qua c'è la cosa meravigliosa nelle onde elettromagnetiche la velocità è un valore fisso come lo era se vi ricordate nel suono nel suono nell'aria di solito la velocità è un valore noto 343 metri al secondo anche per le onde elettromagnetiche è un valore fisso la velocità delle onde elettromagnetiche si calcola così è la radice di uno fratto epsilon zero e mi zero questo nel vuoto questo è quello è il famoso valore che più o meno tutti sanno memoria perché l'han sentito una volta nell'altra nella vita i famosi 300.000 chilometri al secondo questa è quella che voi chiamate erroneamente velocità della luce e qui arriva la cosa proprio bomba assoluta per cui Maxwell ha detto vabbè ho scoperto la ho fatto la scoperta del secolo quelle che voi chiamate onde elettromagnetiche sono quello che comunemente noi chiamiamo luce quella che voi chiamate luce è un'onda elettromagnetica ora qui c'è il solito problema cioè quando a me non ricordo anche io quando ero a scuola quando mi è stata letta sta roba dicevo sì ho capito bello eh ci credo però a me non sembra per niente cioè se io guardo mi guardo in giro mica vedo i campi elettrici e i campi magnetici che oscillano dove cioè perché l'onda elettromagnetica è la luce perché la luce è l'onda elettromagnetica come faccio ad accorgermene il mio occhio non riesce a vedere i campi elettrici e i campi magnetici no? allora qua ragazzi c'è un problema nel senso che il nostro occhio è furbo e anche il nostro cervello di conseguenza non il nostro il nostro apparato visivo non funziona permettendoci di vedere direttamente il campo elettrico e il campo magnetico come funziona il nostro occhio piccola parentesi semi biologica il nostro occhio che cosa fa? questo è il vostro occhio arriva l'onda elettromagnetica quindi il raggio di luce se volete così sacchete dentro il vostro occhio ci sono delle cellule dei recettori che sono sensibili alle oscillazioni del campo elettrico e del campo magnetico cioè sul fondo del vostro occhio fondamentalmente voi avete una sorta di piccolo schermo che riesce a essere alterato da un campo elettrico o da un campo magnetico detto in termini semplici ci sono degli oggetti che si muovono se volete o subiscono una deformazione sul fondo del vostro occhio a causa dell'arrivo di un campo elettrico o di un campo magnetico che è quella che voi chiamate luce poi però dove sta la magia il nervo che porta il segnale al cervello che è stato detto il vostro occhio e poi direttamente il cervello traducono il movimento o la deformazione di questi oggetti di queste cellule sul fondo dell'occhio in un segnale che voi che voi interpretate come luce cioè come un colore come un'intensità luminosa per cui voi non vedete mai direttamente il campo elettrico e il campo magnetico muoversi vedete soltanto quello che il vostro cervello rielabora dal segnale delle cellule sul fondo della retina sul fondo dell'occhio quindi voi non riuscirete mai a vedere direttamente un campo elettrico un campo magnetico quindi questo è per dirvi di non scandalizzarvi se vi dicono che la luce è un'onda elettromagnetica è normale che voi non vediate effettivamente l'ondina ogni volta che guardate contro una lampadina voi vedete il raggio diretto vedete proprio il raggio luminoso come se fosse una linea è normale è il vostro cervello che traduce il segnale campo elettrico e campo magnetico in quella roba lì ok adesso facciamo un po' di classificazione perché questa è una roba che probabilmente avete già visto anche alle medie però vale la pena vederla per bene quindi classificazione delle onde elettromagnetiche le onde elettromagnetiche sono classificate in base alla loro frequenza e alla lunghezza d'onda cioè hanno dei nomi diversi a seconda del valore di frequenza e di lunghezza d'onda vi ricordo che lunghezza e frequenza e frequenza lunghezza d'onda e frequenza sono collegate da una formula per le onde in generale che è questa questa vale per tutte le onde periodiche cioè la velocità dell'onda è la sua lunghezza d'onda per la frequenza quindi è normale che siano collegate le due adesso qua facciamo un bel disegnone per spiegarvi la classificazione delle onde parto stranamente dal centro perché dal centro nel centro ci siamo noi cioè se prendete un strettissimo intervallo in questo in questo schema qua facciamo finta che in orizzontale così ci siano facciamo la frequenza ok c'è un piccolo intervallo nel mezzo che è l'intervallo di frequenze delle onde elettromagnetiche che il vostro occhio riesce a percepire quindi questa è la zona che l'occhio umano percepisce tradotto se vi arrivano delle onde elettromagnetiche nell'occhio che hanno delle frequenze in questo intervallo il vostro occhio le vede come luce altrimenti non le vede per nulla qual è questo intervallo allora facciamo che ve lo metto in lunghezza d'onda perché è un po' più semplice quindi facciamo finta sotto c'è la frequenza sopra c'è la lunghezza d'onda ok questo intervallo va circa da 750 nanometri a 400 nanometri questo è l'intervallo di lunghezza d'onda e poi ci sono le rispettive frequenze che il vostro cervello riesce a percepire come luce se io vi mando nell'occhio una lunghezza d'onda più grande di 750 o più piccola di 400 nanometri voi non vedete quella roba cioè vedete come se niente vi arrivasse il vostro occhio non è in grado di percepirla adesso ci muoviamo a sinistra o destra questa zona qua centrale comunque per essere chiari si chiama luce visibile nome molto fantasioso cosa succede lì a sinistra a sinistra c'è una zona che voi non vedete ma che sicuramente avete già sentito ovvero l'ir cosa è ir infrarosso è una parola unica è la scrivo staccata per stare stretto con lo spazio queste sono lunghezze d'onda più alte della luce visibile più o meno l'infrarosso arriva questi poi sono valori abbastanza indicativi fino a lunghezze d'onda della dimensione del millimetro più o meno sopra l'infrarosso c'è un'altra zona che anche qui avete sicuramente già sentito nominare che sono le microonde quelle che vi scaldano il cibo quando siete di corsa dovete soltanto buttare il microonde e scaldare ecco il microonde cioè il foro la microonde funziona tramite questo tipo di radiazione le microonde qual è la dimensione delle lunghezze d'onda del microonde dal millimetro cioè dove finisce l'infrarosso fino più o meno anche qua al centimetro qualcuno dice 3 centimetri o addirittura qualcuno dice 20 centimetri chi se ne frega più o meno sui centimetri ok sotto le microonde ci sono le onde radio che sono quelle che effettivamente fanno funzionare le radio tutti i segnali wifi eccetera sono in questo intervallo qua cioè sono onde elettromagnetiche di lunghezze d'onde molto basse qua non c'è un limite nel senso che tutte le lunghezze d'onda grandi sono onde radio comunque siamo circa sul metro o chilometro come lunghezze d'onda indicativamente ok adesso invece andiamo a destra della luce visibile quindi saliamo su e continuiamo con la classificazione appena a destra quindi qua ci sono gli UV ovvero gli ultravioletti quelli che vi fan venire il cancro se non vi mettete la crema solare questi hanno una lunghezza d'onda anche qua ripeto valori indicativi che arriva più o meno fino ai nanometri che qua qualcuno dice 3 nanometri roba del genere però per darci un'idea sotto gli UV abbiamo i raggi X quelli con cui fatte le 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 come si chiamano le radiografie questi arrivano a lunghezze d'onda più o meno di un centesimo di nanometro e poi ci sono quelli brutti spaventosi cioè i raggi gamma se avete visto la serie tv cernobil ne sapete qualcosa i raggi gamma che sono quelli più piccoli di quelle dimensioni allora questa classificazione ha un nome anche qua l'avete sentito di sicuro ed è lo spettro elettromagnetico elettromagnetico allora una cosa che io ricordo a scuola mi confondeva un sacco è che non ho mai capito all'inizio perché si chiamasse spettro ma come dice spettro pensa ai fantasmi ragazzi in fisica spettro vuol dire intervallo con di solito varie con classificazione interna ok cioè voi prendete una quantità in questo caso la quantità della lunghezza d'onda o la frequenza la dividete in tante parti date un nome a ciascuna parte questa roba nel suo insieme si chiama spettro non mi chiedete perché in fisica hanno deciso di dargli questo nome assurdo però è così spettro elettromagnetico perché è la classificazione delle onde elettromagnetiche una cosa fondamentale poi passiamo agli esercizi finalmente per quanto riguarda la luce visibile in particolare la luce visibile voi la percepite in diversi colori no cioè appunto se vi guardate intorno voi non vedete semplicemente bianco o nero ma vedete vari intervalli di colore varie tonalità di colore ecco per essere un po' più precisi qua se siete verso l'infrarosso manco a dire lo vedete colori più sul rosso spostandosi sempre di più verso destra si arriva al viola com'è il passaggio di solito dal rosso si passa all'arancione al giallo al verde al blu e infine al viola quindi una classificazione più precisa è questa cioè il rosso è il colore con la lunghezza d'onda più alta che vediamo il viola è il colore con la lunghezza d'onda più bassa che vediamo un concetto che vi dovete piantare in testa è questa cosa qua a ogni lunghezza d'onda e quindi a ogni frequenza della luce corrisponde un colore ben preciso quindi quelle che voi chiamate quindi quello che voi chiamate che ne so verde la luce verde è una luce con la lunghezza d'onda specifica del verde questa è una cosa importante perché in fisica se non l'avete ancora fatto vi capiterà più avanti negli studi sicuramente di sentire parlare di luce monocromatica ok cosa vuol dire in fisichese luce monocromatica significa onda elettromagnetica con una lunghezza d'onda e una frequenza ben precise non è una cosa banale scontata perché ragazzi la luce che vediamo normalmente tutti i giorni non è di solito luce monocromatica è difficilissimo che voi abbiate a che fare con della luce veramente monocromatica cioè dei raggi di luce che abbiano una lunghezza d'onda e una frequenza ben precise quello che succede di solito è che la luce che vi arriva negli occhi è formata da più frequenze lunghezze d'onda sovrapposte quindi per esempio se guardate dritti verso il sole non fatelo guardate verso una lampadina la luce del vostro schermo quello che vi pare non vi arrivano delle singole frequenze all'occhio vi arriva una sovrapposizione di varie robe quindi per esempio se io guardo verso il sole oppure appunto verso lo schermo contemporaneamente mi arriva che ne so una luce rossa cioè che ha la lunghezza d'onda che il mio occhio percepisce come rosso mi arriva una luce blu mi arriva una luce gialla che è un po' una via di mezzo tra il rosso e il blu mi arriva una luce viola e così via mi arriva tutta sta roba contemporaneamente il mio occhio non è che vede distintamente il rosso il giallo il blu e il viola vede una sovrapposizione di questi colori e li traduce in un altro colore ok quindi quello che di solito succede è normalmente le onde elettromagnetiche viaggiano in quelli che si chiamano pacchetti d'onda cosa vuol dire pacchetti d'onda cioè sovrapposizione di onde a diverse frequenze e lunghezze d'onda ok quindi se per caso in fisica qualcuno vi menziona invece l'onda monocromatica intendono dire per esempio un'onda che ha una lunghezza d'onda ben precisa che ne so quella rossa quella blu quello che vi pare bene direi che adesso ragazzi con la roba di teoria abbiamo finito non vi ho fatto formule vedete perché la parte di un elettromagnetico appunto di formule c'ha quasi niente c'è qualcosa con l'intensità e robe simili ma ne parliamo un'altra volta magari adesso volevo farvi un paio di esercizi sempre sul magnetismo e l'induzione elettromagnetica e quelli sono sempre comodi per fare un bel ripasso generale se avete domande ragazzi vi prego fatele in chat se siete su youtube nei commenti vi ricordo tra l'altro che finalmente potete abbonarvi al canale twitch se per caso non l'avete già fatto gli abbonati vi ricordo hanno la priorità nelle domande su twitch in chat quindi le domande degli abbonati ricevono risposta prima rispetto agli altri utenti inoltre gli abbonati hanno la priorità nella scelta degli argomenti delle live successive quindi quando faccio dei poll per chiedere che argomenti volete fare gli abbonati hanno potere decisionale maggiore allora esercizio numero uno avete un elicottero visto dall'alto quindi queste sono le pale dell'elicottero sotto lì c'è l'elicottero il mio disegno sarà terrificante ok più o meno tanto ci interessano soltanto le pale non vi preoccupate vicino a questo elicottero c'è un meraviglioso campo magnetico entrante quindi vi ricordo quando disegno le X vuol dire che state vedendo il sedere del campo magnetico lo vedete dall'alto che entra dentro il foglio questo campo ha un'intensità di 0,4 tesla le pale dell'elicottero hanno ognuna una lunghezza di 2 metri quindi da qui a qui questo è L e vale 2 metri le pale ruotano con una frequenza di 50 Hz ok ci viene chiesta qual è la FEM indotta in ogni pala tra il centro dell'elicottero e l'estremità della pala queste robe non ve l'ho disegnato girano in senso anti-orario quindi stanno girando per così allora questo è il tipico esercizio di fisica che ha una certa difficoltà non perché le formule di per sé siano complicate da usare ma perché bisogna capire che diavolo sta dicendo questo qua cioè voi avete studiato la FEM indotta relativa ai circuiti di solito cioè sono esercizi che si applicano ai circuiti c'è il campo magnetico di mezzo di solito magari c'è anche della corrente della resistenza peccato che qua non c'è nessun circuito c'è un elicottero con le pale che girano quindi che ci azzecca tutta la questione dell'induzione elettromagnetica con la FEM eccetera con le pale di un elicottero allora dobbiamo farci un attimo furbi cominciamo a scrivere la formula che andiamo a usare perché tanto è sempre quella allora legge di Faraday Neumann-Lenz nonché terza equazione di Maxwell quindi la FEM indotta quella che stiamo cercando è meno la derivata o facciamo la variazione del flusso del campo magnetico del tempo questa è quella che andiamo a usare è l'unica formula che dovete sapere dell'induzione quindi non è che ci sono molte alternative questa è quella che funziona dunque quello che dobbiamo chiederci è innanzitutto il flusso perché è lui di solito che vi dà la chiave di lettura corretta per l'esercizio cioè questo è il flusso del campo magnetico attraverso il circuito in analisi il problema è qui io non ho un circuito però devo riuscire comunque a inventarmi una superficie attraverso cui calcolare il flusso quindi la conseguenza di questa roba qua di voler usare questa formula è mi serve una superficie per calcolare il flusso allora qua arriva la meraviglia la superficie sembra non esserci perché io non vi ho per esempio detto quanto sono larghe queste pale vi ho detto soltanto quanto sono lunghe però prendiamo una singola pala adesso tanto considerare tutte e quattro insieme una singola non cambia assolutamente nulla che cosa fa la singola pala è agganciata qua e fa un giro di questo tipo quindi la pala attraversa un'area circolare giusto cioè si muove e nel frattempo percorre quest'area questo cosa significa la pala ruotando è come se formasse una sorta di strano circuito che ha le dimensioni del cerchio attraversato dalla pala e uno dice ma perché dovrebbe essere così cioè lo sta scritto che quello è un circuito ve lo spiego subito la pala come vi dicevo presumibilmente contiene qualche carica elettrica quindi al suo interno per dire avrà delle cariche così non vuol dire che è carica vuol dire solo che contiene cariche elettriche è fatta di metallo c'ha delle cariche elettriche saranno sia positive che negative se volete ok queste cariche che girano attraverso all'interno di questo cerchio sono cariche in movimento e quindi di fatto sono una corrente questa è l'idea chiave le cariche che corrente è è una corrente che gira all'interno del cerchio esattamente come la pala quindi adesso ve la disegno sarà una roba di questo tipo quindi per questo la superficie spazzata dalla pala è come se fosse un gigantesco circuito perché al suo interno si muovono delle cariche elettriche poi lo so che non è un circuito normale perché non ci sono fili non ci sono generatori non c'è nulla però è una zona una superficie non so come dire un'area sulla quale si muovono cariche in automatico si comporta come un circuito quindi tutto sto pippozzo era per dirvi che l'area che mi interessa per il calcolo del flusso è l'area spazzata dalla pala quindi l'area del mio tra virgolette circuito è l'area spazzata dalle pale attraversata se spazzata non vi piace attraversata dalle pale come la calcolo quest'area è l'area di un cerchio di cui conosco il raggio perché sappiamo quanto è lunga ogni singola pala quindi quest'area è pi greco l quadro adesso finalmente riusciamo a fare qualche calcolo nel senso che nel senso che possiamo scriverci finalmente il flusso del campo magnetico che sarà quindi meno variazione di flusso finale anzi di area finale per b meno area iniziale per b fratto per adesso delta t lascio delta t cosa prendiamo come area finale area iniziale quando la pala inizia a girare non ha ancora percorso nessun'area e quindi l'area iniziale vale 0 ok perché ripeto all'inizio la pala deve ancora fare tutto il giro non ha attraversato nessuna porzione di quel cerchio e di conseguenza non ha percorso nessun'area l'area finale è quella che abbiamo scritto lì sotto quindi sarà pi greco all'equadro quanto vale quindi delta t e qua c'è il trucco visto che noi abbiamo preso l'inizio di questo problema come la palla che comincia a fare un giro e la fine di questo problema come la palla ha fatto un giro completo delta t è il tempo di un giro completo della palla quant'è il tempo di un giro completo della palla è il periodo ovvero è 1 fratto la frequenza quindi alla fine dei conti abbiamo che la nostra femindotta è pi greco all'equadro per b meno 0 tutto quanto fratto 1 su f cioè pi greco all'equadro b per la frequenza voilà quindi come vi dicevo prima esercizio dove le formule sono 2 cioè usato la formula del periodo e la formula dell'induzione la difficoltà era capire come inserire correttamente i dati adesso vediamo un altro esercizio direi sempre su magnetismo induzione abbiamo un circuito con una forma un po' strana è fatto così allora è un pezzo questo qua in basso è un pezzo di una circonferenza è un arco di circonferenza di raggio r1 cosa vuol dire di raggio r1 se andassimo a disegnare la circonferenza da cui è stato tagliato fuori quella circonferenza avrebbe raggio r1 quindi questo è r1 mentre l'altro arco quello sopra aspettate r1 se no sembra un pezzo di circuito non lo è ok quello sopra invece è sempre un arco di circonferenza che ha lo stesso centro di quello sotto ma al suo raggio lo chiamiamo r2 poi ci sono quei due pezzi di filo in bianco che collegano i due all'interno di questo affare gira una corrente in questo modo così 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 ecco qua allora ci viene chiesto di scrivere l'espressione del campo magnetico al centro dei due archi cosa vuol dire al centro dei due archi nel punto che fa da centro ai due archi cioè qua questo punto lo chiamiamo p vogliamo il campo magnetico nel punto p come si fa questo esercizio questo è un esercizio non è di induzione qua è soltanto magnetismo si tratta di scrivere il campo magnetico prodotto da tutto quel circuito nel punto p una raccomandazione perché so che qua qualcuno è tentato di farlo b non è zero perché qualcuno può pensare e vabbè ma siamo fuori dal circuito non c'è campo magnetico fuori assolutamente no c'è campo magnetico anche fuori quindi attenti il trucco è il seguente visto che il circuito è formato da quattro diverse parti io semplicemente mi scrivo il campo magnetico prodotto da ognuna delle quattro parti quali sono le quattro parti allora qua avete facciamo punto a b c d quindi b nel punto p è dato da il campo magnetico prodotto dall'arco a b nel punto p più il campo magnetico prodotto dal tratto b c nel punto p più il campo magnetico prodotto da c d nel punto p e il campo magnetico prodotto dal tratto di a nel punto p perché l'ho separato in quattro perché è più semplice da trattare in questo modo visto che ogni singolo pezzetto del circuito ha una forma tra virgolette semplice è più facile in questo modo inoltre già che ci siamo posso dire che questo signore e questo signore si annullano a vicenda perché si annullano a vicenda perché se notate il tratto b c e il tratto di a sono assolutamente identici cioè sono due pezzi dritti che hanno lo stesso orientamento rispetto al punto p però uno c'ha la corrente che va in su l'altro c'ha la corrente che va in giù quindi i loro contributi saranno uguali ed opposti quindi danno contributi uguali ed opposti a b nel punto p ripeto perché hanno la stessa corrente ma girata in versi opposti poi spoiler se per caso fate i calcoli fatti bene scoprite anche che in realtà b c e d a producono campo 0 però non c'è neanche bisogno di andare a calcolarselo quindi di fatto io mi ritrovo con b p b nel punto p che è soltanto il campo generato dal tratto a b e il campo generato dal tratto di a cioè ovviamente dai due pezzi più brutti che sono i due archetti di circonferenza molto bene quindi facciamo i facciamo i calcoli a questo punto come scrivo questi due campi allora esiste la formula per il campo magnetico ragazzi questa è una cosa che ogni tanto ci si dimentica c'è una formula che funziona sempre vi permette in qualunque situazione di calcolarvi il campo magnetico in un certo punto dello spazio ed è la legge di Laplace che adesso vi scrivo allora la scrivo e ve la commento db è uguale a mi zero per i fratto 4pi greco dl vettore r fratto r alla terza questa roba vi funziona sempre vi dice il campo magnetico sempre cosa sono tutte queste varie robe qua dentro però qua bisogna fare attenzione db perché c'ha la d davanti è soltanto per ricordarvi che quello è un campo magnetico piccolo cioè prodotto da un pezzettino di circuito però la d davanti non toglie nulla è il campo magnetico quindi campo prodotto da un piccolo e sul piccolo mi soffermo perché è importante tra un attimo da un piccolo tratto di circuito qual è il piccolo tratto di circuito è il tratto che si chiama poi dl dl è la lunghezza del tratto di circuito che genera il campo ci sono un altro paio di cose qua dentro a cui dobbiamo stare attenti cioè c'è r r è la distanza di p cioè del punto in cui state guardando il campo da dl cioè dal pezzettino di circuito che sta generando il campo e poi c'è i che è la corrente attraverso quel tratto di circuito allora come si usa questa formula qua cioè so che scritta così sembra poco intuitiva è poco abbordabile però non vi preoccupate che è un attimo l'idea è questa qua prendiamo l'archetto a b quindi quello sotto in giallo questa formula qua la legge di laplace vi sta dicendo questa cosa qui questo è a b voi prendete un pezzettino di questo arco piccolino poi piccolo so che è a discrezione vostra però un trattino piccolo facciamo questo qua di l questo è di l è un pezzettino dell'arco analizzate solo lui facendo finta che sia un pezzo dritto cioè è talmente piccolo che potete immaginare che sia un segmentino dritto questo punto qua dal punto p questo piccolo segmento ha una distanza che è il famoso r questo qui è r distanza di p dal vostro dl se cambiate il dl cioè se per voi per qualche ragione dl vi piace vederlo qua r diventa questo qui la corrente i sarà la corrente che passa attraverso l'arco a b e quindi che passa attraverso i vari dl però dovete proprio immaginarvi che l'arco sia formato da tanti piccoli dl cioè da tanti piccoli pezzettini uno attaccato dietro l'altro ognuno di questi genera il suo campo magnetico nel punto b come faccio a scrivere tutto il campo generato da b cioè come faccio a dire va bene ma come metto assieme tutti questi singoli dl il campo di tutto a b non è altro che la somma di tutti i dl piccolini quando in matematica vi dicono di fare la somma di tanti piccoli tratti vi stanno dicendo di fare un integrale questo è il significato matematico di somma di tanti pezzi piccoli integrale non si scrive come somma ma visto che sono piccolini le robe che sommate scrivete come integrale quindi questa è l'integrale dal punto a al punto b di tutti i vari di b che voi avete generato questo è ragazzi quindi il trucco è mi scrivo l'integrale da a b di db e al posto di db ci devo ficcare la legge di laplace quindi questa roba diventa integrale da a b al posto di db diventa mi 0 per i fratto 4 pi greco dl vettore r fratto r alla terza voilà questo è questo è per il tratto a b per il tratto cd l'idea è assolutamente identica nel senso che dovete prendere l'arco cd anche lì pensare di dividerlo in tanti piccoli dl anche lui ognuno di questi ha la sua distanza eccetera eccetera dal dal punto p quindi anche per l'altro tratto adesso dovrò cancellare qualcosa b è l'integrale da c a d dei vari di b cioè integrale da c a d mi 0 per i fratto 4 pi greco dl vettore r fratto r alla terza l'esercizio non è finito nel senso che a questo punto uno deve mettersi e risolvere i vari integrali però di fatto l'avete impostato cioè a livello fisico non c'è praticamente più niente da fare si tratta adesso di scrivere i risultati di questi integrali lo facciamo non vi preoccupate allora facciamo che cancelliamo si cancelliamo un attimo questi ve li riscrivo subitissimo ok quindi questi due affari sono diventati l'integrale da a b di mu 0 i 4 pi greco dl vettore r su r alla terza e poi c d stessa roba eccolo qua allora come si risolvono questi integrali perché adesso arriva la parte divertente prima cosa il mi 0 i fratto 4 pi greco lo pigliate e lo portate fuori istantaneamente che tanto non vi serve quindi questa roba qua la facciamo uscire dall'integrale sia per questo che per il suo cugino dopo quindi questa roba qua fa e va fuori ok ora il prodotto vettoriale sistemiamoci quella roba lì che so che state già piangendo sangue perché c'è dl per r in vettore non preoccupatevi non è una roba tragica mi ricordo che il prodotto vettoriale è soltanto un modo diverso per dire dl per r per il seno dell'angolo alfa alfa è l'angolo tra dl ed r in questo esercizio però sono stati vagamente gentili con voi quelli che l'han pensato perché se vedete dal disegno che ho fatto qua di lato dl ed r sono sempre perpendicolari quindi alfa è sempre 90 gradi quindi il prodotto vettoriale di l per r seno alfa di fatto diventa dl per r semplicemente quindi al posto di quei prodotti vettoriali noi adesso mettiamo r qua ed r qua meglio di così non si poteva tra l'altro doppia figata vi si semplificano un po' di r quindi qua sotto diventa 2 e sopra avete perso la vostra r quindi l'integrale è diventato dl r quadro e di qua dl su r quadro ora entrambi sono scritti con r quadro ma facciamo attenzione che i due raggi non sono uguali cioè l'archetto più piccolo quello a b in giallo ha un raggio che abbiamo chiamato r 1 quindi questa in realtà è r 1 sbagliato colore alla seconda l'altro archetto aveva un raggio che si chiamava r2 alla seconda questi li pegliamo visto che sono numeri e non c'è bisogno di integrarli li portiamo fuori quindi i due integrali diventano facciamo che raccolgo già 0i su 4pi greco 1 su r1 quadro integrale da b t dl più 1 su r2 quadro integrale da c a d d dl ok adesso come si risolve siamo arrivati alla stretta devo risolvere questo integrale devo fare un'integrazione questa roba qui ragazzi l'integrale da b di dl e l'integrale da c a d poi di dl non sono altro che le lunghezze dei due archi quindi questa è lunghezza dell'arco a b questo qua invece è la lunghezza dell'arco cd se l'avete fatto in geometria ottimo altrimenti ve lo dico subito come si calcolano dobbiamo un attimo far finta di sapere quest'angolo questo qua facciamo che è l'angolo teta cioè l'angolo di apertura diciamo di questo circuito c'è una proporzione che vi dice quanto valgono queste due lunghezze cioè praticamente non sto facendo l'integrale vado direttamente a risolvere in questo modo allora vi disegno un attimo di nuovo i due archi all'interno delle rispettive circonferenze quindi così e cosa questo è l'angolo teta quella esterna la chiamiamo circonferenza uno quella entrerna la chiamiamo circonferenza due l'idea che ci sta dietro è questa la lunghezza del singolo archetto in verde è direttamente proporzionale all'angolo che lui ha rispetto al centro della circonferenza all'angolo teta praticamente quindi facciamo questa cd e questi erano a e b io posso dire che a b sta all'angolo teta come tutta la circonferenza quindi per esempio in questo caso ho invertito i nomi scusate questa c1 e questa c2 ok come c1 sta a 2 pi greco perché 2 pi greco che è l'angolo interno di tutta la circonferenza da questa cosa vi trovate subito quanto vale a b cioè a b è teta per c1 fratto 2 pi greco quindi teta per c1 che è 2 pi greco r1 fratto 2 pi greco in questo vi si semplifica e ottenete teta r1 idem per l'altro lo suo compare sopra cioè cd sta a teta come c2 sta a 2 pi greco quindi anche qua potete fare una proporzione cd è uguale a teta per c2 fratto 2 pi greco quindi è teta per 2 pi greco r2 fratto 2 pi greco e quindi è teta r2 ok ce l'abbiamo fatta morale della favola i due integrali che avevate di dentro il primo teta per r1 e il secondo come teta per r2 abbiamo finito giuro l'ultimissima cosa da fare è questa ed è importantissima col fatto che il tratto cd ha la corrente che va in verso opposto al tratto a b devo cambiare il segno qua davanti qua ci va un meno questa cosa la faccio adesso perché è una correzione finale se vogliamo quindi vale la pena vedere alla fine quindi finiamo scrivendo il risultato mi 0i fratto 4 pi greco per teta su r1 meno teta su r2 voilà questo è il campo magnetico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti